Ciao a tutti, prospettive future con lei. Chi fosse interessato ad avere questa risposta, ascolti il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescolate le carte. Tagliamo, giriamo. E tra le tante carte a disposizione, ne vado a scegliere quattro casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora. Concentrati su questa lei, della quale vuoi conoscere le prospettive future. Dopodiché sceglio la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Puoi anche stoppare il video, puoi farlo ripartire. Perché hai scelto la carta 1? Allora, ci può essere una buona fortuna, diciamo, ma va fatta qualche modifica per avere una relazione positiva e buona. Che hai scelto la carta 2? Diciamo che hai un antagonista. Un antagonista che è un antagonista molto solido, dovrai riuscire a superare questo antagonista per avere una prospettiva di relazione. Chi hai scelto la carta 3? Avrai dei fastidi, fondamentalmente. Sarà una relazione che alla fine non porterà da nessuna parte. Quindi, vedi tu. Chi hai scelto la carta 4? Ma il giudizio che hai nei tuoi confronti è un giudizio non positivo. Quindi, bisogna prima ricercare stima e considerazione per poi avere una prospettiva futura positiva. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.